Il 9 marzo del 1904 nasce a Milano Silvio Pietroboni, medaglia di bronzo con la nazionale italiana ai giochi olimpici di Amsterdam del 1928. Cresciuto calcisticamente nell'Inter, l'unico club della sua carriera professionistica viene convocato per la prima volta dal CT azzurro Augusto Rangone il 17 aprile del 1927 in occasione dell'amichevole contro il Portogallo. Tersino sinistro all'occorrenza mediano di rottura, Pietroboni si ritaglia in poco tempo uno spazio sempre più importante collezionando complessivamente nel giro di due anni la bellezza di 11 presenze. Di queste le più rilevanti sono sicuramente quelle disputate alle Olimpiadi di Amsterdam durante le quali la giovane nazionale italiana raggiunge il gradino più basso del podio dietro Argentina ed Uruguay conquistando di fatto il primo prestigioso riconoscimento internazionale. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!